Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi andiamo a parlare di un argomento che a me mi sta leggerissimamente qui Perché si va a parlare di carte riempitive dei set Ma prima di iniziare come sempre ragazzi invito a iscrivervi al nostro canale Prima di sempre aggiornati per il mondo di Yugi Mi raccomando ragazzi è importantissimo Ci dà veramente una grandissima mano Grazie mille E parliamone Credo che sia un argomento di cui anche voi avete un po' le balle piene Nel senso I set principali hanno tante carte Molte carte sono riempitive Sono carte fondamentalmente comuni Che sono nel 99% dei casi ingiocabili Tralasciando qualche caso Rifaccio anche due list nexus dove c'era magari quella carta magia rapida Che più o meno in determinati mazzi Anche magari forfano Un piccolo tipo di gioco poteva trovarlo Ma la maggior parte sono completamente carte inutilizzabili Con testi magari lunghi Con testi magari incomprensibili perché sono molto strani Riperdo tralasciando alcune eccezioni Queste carte secondo me sono veramente uno spreco di stampa E di spazio soprattutto perché si ok il set deve avere comunque carte non per forza rare Non per forza costose e appunto riempitive che vadano a comporre il set Però se io penso che Quello spazio potrebbe essere utilizzato in maniera molto più Molto più Intelligente E mi viene Incavolo perché Allora io adoro tantissimo Deck Build Pack Tralasciando il fatto che possono uscire fuori mazzi che sono sbagliatissimi Hanno quella cosa giusta E poi dal nome viene Che hanno tutte carte che servono per fare quel tipo di mazzo Di archetipo Non ci sono carte strane che non servono a niente E' ok Quindi ogni carta comunque ha un suo utilizzo Ma anche nel corset Magari se vuoi mettere delle carte generiche Ma comunque possono essere utilizzate magari in tot mazzi Potrebbe essere una cosa intelligente I Deck Build Pack sono un set che io adoro tantissimo Sta perché sono fatti in maniera intelligente E i corset hanno un sacco di roba che è praticamente fuffa E io penso Il video non durerà tantissimo Io penso ma perché invece di fare queste carte fuffa Non si vanno a fare delle opzioni Che saranno budget per quei deck Esempio Archetipo nuovo che esce Na un set non specifico a caso Mazzo costa 30 euro Carta secret 90 euro 3x Invece di farmi una common che non serve a niente Mi fai magari una super Che emuli L'effetto di quello ovviamente con tante restrizioni Magari con un modo di giocare molto più lento Ma che comunque mi consenta di farmi anche il mazzo addirittura Perché magari se io mi faccio il box Se mi compro il box È anche un motivo per comprarsi il box Perché magari mi viene il 90% del mazzo Ovviamente mi manca la carta da 3x secret Però se tu mi fai una controparte ultra Che va a scalare tot e rarità anche Oppure una controparte super Che ovviamente non è forte come quella Ma mi consente di fare un minimo gioco simile Come se avessi quella carta È il box Me lo compro Io ci faccio anche il mazzo Secondo me questa serve una soluzione intelligente Per andare a togliere tot carte fuffa Magari appunto Non me la fai un secret Me la fai un ultra Che è un po' più facile da trovare Diciamo Però mi vai a scalare un'altra carta Di rarità E toglie lo spazio di una carta Che magari è inutile Quello secondo me potrebbe essere Una cosa giusta Oppure qualche carta generica Oppure qualche carta Che comunque è common Ma che vada un po' ad aiutare I mazzi di quel set Potrebbe essere interessante Per dirvi che ne so Esce il mazzo Horus Metti una carta a caso Common Horus Che è più utile Di altre carte Che magari vada a mandare Magari uno dal deck al cimitero Per dirvi No magari scarti uno Ma uno dal deck al cimitero Scarti di costo Non è troppo sgrava Ma comunque potrebbe essere utilizzabile No chi mi mette carte Che veramente io Ho una pila di carte comuni Che non ci posso fare niente Ogni tanto esce una Giara così a caso Comune Che non fa un cavolo Con effetto scopri Che non aiuta quel mazzo Ma non si fa tanto per meme Ci sono alcune carte meme Va bene Ho visto il mostro risuscitato Che dovevi mandarti il mostro risuscitato Dal deck al cimitero La trappone Ho visto certe cose Veramente Tra il trash Tra il trash Ma Alla evil dead Alla armata delle tenebre Quindi magari Un trash Tra virgolette Cutibile Qualc'è me l'odore Spettacolare Non è proprio trash Diciamo È il tipo di È il tipo di cosa Quindi Secondo me Andare a Capisco Devi vendere Capisco Ci sono le cartelare Capisco Tu non devi trovare Soltanto una carta O due Per box Per farli Prendere di più Però almeno Le comuni Andiamo a Farle un po' più Ragionate Magari Che ne so C'è una carta Che Una lapstar Una carta lapstar Costerebbe 5-6 Però una carta Che comunque Mi consenta di fare robe Magari che mi consenta di Non lo so Ma andare Rimuovere Magari una carta Per triggerare l'effetto Di una carta Di un archetipo E andare a spaccare Una carta sul terreno Che già sarebbe meglio Di carte Che magari Vengono evocate Paghi mille Tiri il dado Cioè Sta roba qui Non si può più vedere Per me E' uno spreco di spazio Di stampa Inutile E' una cosa Proprio futile Mi dà quasi fastidio Quindi Non so Non so E niente ragazzi Ve l'ho detto Comunque Questo video sarebbe stato breve Fatemi sapere voi Cosa ne pensate assolutamente Così esce un bel Una bella conversazione Tra commenti Assolutamente Che io sono sempre Molto curioso Di quello che Mi dite E appunto Fatemi sapere voi Cosa è pensate Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti